I controlli straordinari del periodo pasquale dei carabinieri della compagnia di Andria hanno portato all'arresto di un pluri pregiudicato del luogo di 33 anni, riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato avvistato a bordo di un ciclomotore nei pressi di via Malpighi, fermatosi in prossimità di un muretto a secco dopo aver spostato una pietra, aveva prelevato una busta occultata. I militari insospettiti dopo l'ennesima scena ripetuta successivamente al muretto sono usciti allo scoperto per bloccarlo e rinvenire così nella busta ben 20 dosi di hashish del peso complessivo di 44 grammi subito sequestrate. L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato ristretto su disposizione della procura della Repubblica. In totale sono stati 30 gli uomini dell'arma scesi in campo per garantire sicurezza con il potenziamento dei servizi serali che hanno consentito di identificare 190 persone e controllare circa 120 autovetture elevando una ventina di contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Ancora sono state individuate ben 17 persone appartenenti alla fascia di età compresa tra i 19 e i 30 anni nell'atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti cosiddette leggere e segnalati alla prefettura BAT quali assuntori di sostanze stupefacenti a cui sono stati sequestrati nel complesso 10 grammi di marijuana 20 di hashish e 5 di cocaina.